Buonasera a tutti, signor Sindaco, Presidente e colleghi e cittadini presenti. Io trovo inaccettabile andare all'interno di un processo civico il quale dovrebbe dare risposta alla città, alle persone, da dare più situazioni interne alle proprie famiglie, perché un conto è essere maggioranza, un conto è posizione e un conto è rispettivo. Da troppi mesi, forse da troppi anni, si scarica sempre sull'avversario di turno dei capacità di chi non ha mai caputo gestire la vera politica. A me, per fortuna, sfortuna, noto che a me, a questo punto, hanno insegnato che la politica è una diretrice della vita, la scienza e sociale, la scienza che fa si carico dei problemi della cobertività, e invece puntualmente io sento, soltanto che all'interno delle stesse famiglie si portano nel contesto civico argomenti che non hanno a che vedere con i vostri problemi e con i problemi della città. Si dice, chi c'è una persona per te, si dice, non probabilmente viene da vecchie famiglie, da soviate, ma a te mi interessano le persone, a te mi interessano le rivoluzioni, o quello che succede nell'ambito delle particole partite. A sempre saremo государste, poi si dice, non conseguin' vedere, chi cos ti dice, non하면서 padre di chi c***, chi mantiene boc입니다, chi bianca traione sonoается, chi e roghe il momento le rivoluzioni e mai smettare il momento Exactly. Ho ecstismo i ragazzi sono tentati che tutti. Grazie a 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 tutti.